Musica Musica Confortata dalla presenza di tanti giovani che mi danno la speranza che il loro sacrificio non è stato dimenticato. Musica Benvenuti a Palermo! Musica Buongiorno Palermo, grazie di averci accolto così tanti. È il mio primo viaggio nella legalità. Devo dire che è stata una bellissima esperienza perché stare nella stessa nave non è come quella di legalità in una sala di convegno. Musica Perché il problema della mafia ti frega nel quotidiano. Quindi la vera sfida è convivere questi sentimenti dal 24 maggio e poi. Musica 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 E poi, come l'hanno cambiato i nostri genitori, questo è quello che mi arriva al mondo. I principi della fratellanza, l'amore reciproco e anche per il bene comune, queste sono le cose, gli ingredienti essenziali per combattere la mafia. La mafia ci sottrae con tantissimi idee e materiali. Quale la fiducia di costituzione e della giustizia, l'armonia dell'uomo con il suo ambiente e la salubrità di questo ambiente, la si riduce in una giustizia libera. Ecco, questo è il tema di oggi. Genaro, uomo e dignità organizzante.